Buongiorno, mi trovo oggi a Massagno e sono prato a mostrarvi un ufficio, uno spazio commerciale davvero molto ampio. Sono al primo piano di uno stabile di cinque piani con destinazione mista, quindi abbiamo diversi locali sia all'uso commerciale che all'uso abitativo. All'ingresso si trova un comodo armadio per i vostri clienti, quindi come un guarda roba. Subito sulla destra si trova il locale bagno dove sono a disposizione due bagni di servizio. Il primo è completo di specchiera, lavabo con cassettiera e in servizio batter e quindi anche la finestra. Successivamente si trova un piccolo locale gabuzzino, magari la donna delle pulizie installa un aspirapolvere e queste cose, un po' anche deposito per l'inquilino dell'ufficio. E infine il secondo bagno invece anche ad uso per disabili, persone in sedi materie o disabili in generale. Anche questo è finestrato, un po' più spazioso rispetto al primo. Spazio qua a bagno diciamo a 11 metri quadri di superficie. Quindi si accede poi a questa parte che è un disimpegno locale che può essere la reception per esempio e qua abbiamo una superficie di 16 metri quadri fino a poi ad arrivare nel grande open space. E' veramente veramente molto grande come spazio. Superiamo i 100 metri quadri, 110 metri quadri e a dipendenza di quelle che sono le vostre attività. Può essere magari una buona location Massagno. Vicino all'angostrada, vicino a negozi alimentari, Migros, Coop e quant'altro. Scuole sono anche nelle vicinanze se possono servire per accompagnare i figli ed essere più comodi per arrivare al lavoro. Insomma a dipendenza di quelle che sono i bisogni di ognuno. Poi insieme all'appartamento, scusatemi, insieme all'ufficio anche a disposizione due posteggi in autorimessa. Cos'altro? Siamo appunto vicino all'autostrada. Eccolo qua l'ingresso, quindi diventa anche strategico per il raggiungimento di clienti, se ben servito anche dei mezzi di trasporto pubblico. Perfetto, è tutto. Vi invito a venire a visitare direttamente, personalmente, questo grande open space. Vi ringrazio, ti affitto!